Ragazzi, 25 iscritti, ma vi rendete conto del risultato che abbiamo raggiunto? Un anno è passato e siamo a 25 iscritti, veramente incredibile. Ragazzi, grazie per i 50 iscritti, sono veramente fiero di voi, veramente incredibile il risultato che abbiamo raggiunto, continuiamo così che abbiamo tanto da fare ancora. Ragazzi, 100 iscritti, ci rendiamo conto del risultato, è qualcosa di incredibile, mai visto fino ad ora. 200 iscritti, io non ho parole, siamo grandi, e la nostra platea sta crescendo sempre di più. Benvenuti allo speciale 300 iscritti, chi l'avrebbe mai detto che avremmo raggiunto un numero simile? È incredibile, io vi ringrazio tutti, bravi bravi, sono fiero di voi. Ragazzi, 400 iscritti, 400 iscritti. Significano varie cose, alcune le vedrete durante questo video. 400 iscritti che stavolta sono reali. Ragazzi, avete idea di che cosa vuol dire per me 400 iscritti? Io sono un piccolo youtuber che sta dando finalmente la propria influenza in questo grandissimo mondo di YouTube. Il mio canale, diciamo che conta quanto uno sputo per terra nelle piazze di Milano, però per me questo canale conta veramente tanto. È parte della mia vita, racconta una parte della mia vita, una parte che è stata difficile, ma anche piena di soddisfazioni, e voi siete stati parte di questo mio grande cammino. Quindi veramente, io non so proprio che cosa dire, sono veramente, ma veramente contento. Specialmente in questa seconda metà dell'anno, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto tutti quanti insieme, io sono riuscito a portare avanti il canale, a risolvere tante cose, a finire un liceo, e questo è stato un grandissimo traguardo. E il canale ne è parte, è parte in tutto questo perché ho messo tantissimi video a riguardo. Però insomma, veramente qualcosa di incredibile, io sono veramente troppo soddisfatto. Ferrovie dello Stato ha ormai sfondato appunto l'apice di tutte le mie categorie, è praticamente la più seguita, assieme a quella della tecnologia, e io non vedo l'ora di continuare a portare contenuti a riguardo, sono veramente molto, ma molto felice. In questo video voglio ringraziare quelle persone che appunto hanno dato fiducia a questo canale e hanno dato appunto un grande contributo proprio al canale stesso. Cominciando dalla prima persona che è stata Treni Viareggio. Treni Viareggio è stato il primo, diciamo, personaggio che ha iniziato veramente a seguire la categoria Ferrovie dello Stato. Commenta sotto tutti i miei video sui treni, mi dà suggerimenti continuamente, e un mesetto fa addirittura ha sponsorizzato il mio canale sul suo canale da oltre 2000 iscritti, il che mi ha fatto veramente, veramente tanto piacere. Le altre persone che devo ringraziare sono canali molto più piccoli, ma che comunque hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, un grande sostegno per me, e sono DendasGiova07, MrL642, LeoTheGamer, e tutti i canali di mio fratello, che tanto se non li nomino lui si arrabbia. Ce ne sono anche altri se mi sfuggono, in questo momento mi dispiace, ma non mi vengono a mente, comunque grazie a tutti voi che date questo grande supporto. E un ultimo grosso ringraziamento va dato a quella persona che ha rivoluzionato il mio canale, e che mi ha dato veramente grossi consigli, che io ho apprezzato, e che veramente hanno cambiato il mio modo di fare video totalmente. Tutte le nuove intro che io ho creato per i vari argomenti sono tutte state, diciamo, suggerite da questa persona, ispirate, e io l'unico modo che ho per ringraziarla è sponsorizzare la sua attività, per così dire. Questa persona si chiama Carola, e io la ringrazio infinitamente, è una persona che si occupa di fan art, disegnare loghi dei canali, e se siete fortunati anche fare qualche bella intro, io vi metto il suo link di Instagram e Fiverr in descrizione, e vi invito ad andare a visitarli, perché vi assicuro che non resterete delusi. Io, Carola, ti ringrazio infinitamente, perché il supporto che hai dato te è veramente incredibile, ha veramente dato il via alla seconda fase del mio canale, quella più evoluta. E ragazzi, so che sto filmando con una fotocamera che non è un gran che, però questa ho che può riprendermi per bene, e volevo fare un video stabile. Beh ragazzi, 400 iscritti, e stiamo crescendo in fretta, siamo già quasi arrivati a 410 in una settimana, quindi sono veramente, veramente felice. Io ancora una volta vi ringrazio tutti quanti che siete iscritti al mio canale, metterò i link in descrizione anche di tutti i canali che ho nominato, di modo che anche loro possano beneficiare un po' di questo video, e sarà il mio modo per ringraziarvi. Io per il resto vi ringrazio di cuore a tutti quanti, e ci sentiamo presto con un altro video. Grazie ancora, ciao a tutti. Grazie a tutti.